Oggi abbiamo ribadito che questa operazione di costituzione della nuova società tra Agger e Acquedotto Pugliese non è una operazione che danneggia i privati, ma rafforza il sistema pubblico, un po' come per la sanità. La sanità privata ha un ruolo, ma la sanità pubblica deve essere in condizione di funzionare altrettanto bene, altrimenti il mercato viene un po' tirato dalla parte dei privati e questo non crea equilibrio. Quindi questa società mira a costruire impianti e gli impianti, come voi sapete, sono essenziali per la chiusura del ciclo e in particolare Acquedotto Pugliese ha un interesse specifico aziendale a realizzare questa società per smaltire qui in Puglia i fanghi della depurazione. In questa maniera noi risparmieremo molti soldi sia sulla tariffa dell'acqua sia sulla tariffa dei rifiuti perché questa società farà da calmiere permanente nel rapporto con i privati. Quindi assicuro al mercato privato che esso potrà continuare a lavorare serenamente, ovviamente consentendo al sistema pubblico di non essere assoggettato al sistema privato. Quindi è una cosa equilibrata secondo la legge e secondo quello che è il sistema che l'Unione Europea e l'Italia preferiscono per la gestione dei rifiuti. È chiaro che l'alleggerimento delle bollette arriverà a regime, non è un fatto automatico, nel senso che nel momento in cui ACUPI smaltirà i fanghi senza spendere tutti i soldi che spende attualmente per mandarli al nord, noi avremo la possibilità di abbassare sia le bollette dell'acqua sia di consentire a tutti i comuni di avere a disposizione anche impianti pubblici oltre quelli privati in modo tale che i prezzi non ci scappino dalle mani.